Sì, sapevamo che per noi era una partita cosiddetta impossibile, però volevamo riscattare se non altro la brutta figura dell'altra settimana. Avevo chiesto alle ragazze più attenzione, più voglia di fare e a tratti si sono viste anche delle belle cose. Sono soddisfatte e finalmente abbiamo ripreso di nuovo una strada più consona per il nostro obiettivo. Adesso abbiamo tempo di nuovo per lavorare, dobbiamo lavorare tanto, lo sappiamo, però oggi si è visto qualcosa di positivo e su questo trend dobbiamo continuare.